Andiamo a vedere come si costruisce un super verde, così lo chiamo io. Con il giallo di cadmio e il rosso carminio facciamo questo bellissimo arancione. Questo bellissimo arancione lo andiamo a porre qui, nel mezzo della tela, e attendiamo solo che arrivi il blu phtalo. Con il blu phtalo noi andiamo a costruire un verde strabiliante. Guardate come si esalta con l'arancione. E più arancione noi mettiamo sopra questo blu, più otteniamo un verde strepitoso. Guardate che meraviglia. Non dimenticatevi domani sera la diretta alle ore 21. Parleremo di Diluenti, di Rembrandt e di tante altre cose.